musica musica allora eh oddio secondo me banca è pure peggio secondo me banca è pure peggio di far fare in attacco noiaiaia lo sapevo io oh shit no ti prego no non c'ho il cuore musica musica attacco raga io vi giuro non c'ho una tattica su banca in attacco prendere il c***o cioè la tattica è questa prendi il c***o stai zitto speri di fare uno due cioè eeeh tutto bene tutto bene abbiamo fatto una raga abbiamo fatto una partita poco fa porco due l'ultima partita mamma ci hanno preso il c***o quelli conti cioè veramente non ci hanno capito niente che ci fai tu qua ma ma dove sono? sono sopra ho trovato una bomba non posso ne scendere non posso ne scendere nel salire ne scendere nel salire non è open uno si scala ha detto uno si scala ha detto un solo difensore rimasto un solo difensore un solo difensore what the what the molly molly what the molly what the molly what the molly sta bene troppo un genitor un operatore alleato rimasto fratelli a casa pensatela come volete cavolo mi ha preso in testa insomma no 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 non l'ho visto tutta quella testa però va bene ti ricordo che è una mappa super difensiva quindi va bene 2 1 e cristo quindi non ci perchè mi fotti ma che vuoi con perchè mi dividi la vaga yana ora tu me lo dividi perchè mi dividi la vaga yana io ti prendo twitch tanto un bricio mi interessa siiii e prendiamo un altro entry let's go twitch yana nox regge amaro il team del taranto junior sapevo io sapevo io sapevo io ti pare che non lo sapevo? granata lanciata ma che ho fame? che 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 cazzo stai a fame? io non ho cliccato nessun tasto mi distorcio oh si ho capito andrà a prendere la bamba però no 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 ora prendila l'innovazione l'innescatore è stato recuperato droni lanciato ok l'hai chiusa quindi ci possiamo entrare lanciamo un drone ed esca parla un 0 un 0 un 0 un 0 un 0 un 0 è un 0 Sì, posso darlo? Bro, puoi planare? non ho sentito siringa non lo so play time nice buono peccato raga per il flick che ho fatto era troppo alto però mi so cadere addosso no 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 io lo so che fa lo stronti a questa cosa ok mettiamolo così che palle c'è quello davanti la squadra d'attacco ha trovato una bomba no 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 io no AACY No A jimmy strażnego wynka strada unkost mój kogoś Włóż Non è fallita Piango Piango veramente tantissimo Sinceramente chat Piango luce eterna veramente Non capisco come Metti una nella fognatura No perchè tanto scappano Non serve Più di tanto Hanno trovato una bomba Va a difesa Non viene fuori adeato in atto Missione fallita Difensori neutralizzati La squadra d'attacco ha trovato una bomba La squadra d'attacco La squadra d'attacco Eh ragazzi è un problema C'è una base vediamo se ne risponda un pound o sixty maverick pin 1 ok ho 4 che c'è colpi ok 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 Essi mi? chi è uscito ok oh no vai ok dai l'ultimo round dai che ce la facciamo ultimo round sopra vai oh mio dio chat questa è dura questa è veramente dura vincerla molto dura il muro è in sicurezza se ne state chiedendo perché chiudo questo perché posso non rompere da dentro facilmente i bandit hanno trovato una bomba proteggetela ricarico cazzo Sapevo, lo sapevo Genito Cazzo Che cazzo ci fai qui Tu che ci fai qui Tu che ci fai qui E che cazzo però Ma posso switch C'è questo che è fuori In tunnel Vi prego vincitela Sto impazzendo Vi prego vincitela Perché non lo so Ce la posso fare No vi prego vincitela Mi sta venendo un attacco di panico Mi si sta fermando il cuore Mi si sta fermando il cuore